Ho valutato un po' di situazioni, però ritengo che Nardò sia stata la squadra che mi ha più cercato rispetto alle altre. Poi qui a Nardò, torno dopo sette anni, dove ho lasciato un grandissimo ricordo, io ci ho anche giocato, quindi insomma ci ho giocato, ho fatto due anni di allenatore, bene, l'affetto è rimasto. La questione di affetto, insomma, ne ha tanto nei confronti del Nardò Nicola Ragno e lui, il nuovo allenatore dei Neretini, dopo l'ottima stagione alla guida del Franca Vellensini, dove ha vinto il playoff del Girone H di Serie D dal secondo classificato al termine della stagione regolare. Il tecnico Molfette, se vuole ripetersi al timone dei Salentini, come ha confermato nel corso della sua presentazione ufficiale, trova un Nardò decisamente rivoluzionato rispetto al recente passato. Abbiamo preso tanti giocatori, la stiamo ancora costruendo perché mancano ancora degli elementi sia come senior sia come under, non manca tanto, diciamo che il 70% della squadra è fatta, con altri due o tre innesti sicuramente partiremo in ritiro e poi vediamo cosa siamo capaci di fare lì e già dalle prime indicazioni vediamo dove ci manca qualche altro elemento e lo prenderemo più in là. Impossibile immaginare con Niccolaragno in panchina un Nardò senza ambizione. Un campionato difficilissimo, il Girone H l'ho dimostrato quest'anno, l'anno prossimo sarà ancora più difficile perché tutte le squadre pugliesi puntano a vincere la maggior parte, su 11 squadre mi sembra già 9-10 puntano a fare qualcosa di importante. Poi ci sono anche squadre napoletane che stanno facendo bene, le Lucane in materia si sta muovendo anche bene, il Francavilla so che ha riconfermato parecchie elementi dello Scassuano che hanno fatto bene, quindi è un campionato difficilissimo. Noi non ci poniamo limiti nel senso che pensiamo a giocare domenica per domenica, ti sono sincero non so dove può arrivare, intanto vediamola giocare poi qui in là possiamo valutarla. Siamo tutti contenti, non potevamo desiderare un primo acquisto migliore di quello del mister, il pubblico non è una novità che il pubblico risponda in questo modo a Nardò e speriamo tutti di vedere un comunale come ai vecchi tempi quest'anno, anche grazie ai risultati. Non parliamo di obiettivi, è troppo presto, sicuramente il ragno è garanzia di serietà, di lavoro duro ed è garanzia di una squadra all'altezza di quello che è il blasone del Nardo Calcio. Noi quest'anno dobbiamo innanzitutto dimenticarci la stagione scorsa perché è stata una stagione che ha lasciato il segno a tutti, dopodiché il nostro motto quest'anno è quello di divertirci, sicuramente per divertirsi bisogna vincere e quindi cercheremo di divertirci il più possibile. Il taglio con il passato e netto non riguarda soltanto l'allenatore del Nardò, Mengoli e Alfarano infatti, al momento sono gli unici confermati in organico, tante le novità, molte delle quali anche di spessore dei difensori, Russo, Urquisa e Lanzolla, al centrocampista Guadaluppi, agli attaccanti D'Ambros da Silva e Gionai e in arrivo ci sono altri colpi importanti.